Sono quattro i posti disponibili a Caltanissetta presso la cooperativa sociale Etnos per i ragazzi e le ragazze che vorranno vivere l'esperienza del servizio civile attraverso il progetto Sinergie per l'inclusione e l'autonomia di Lega Cop Sicilia. Il progetto che prevede un contributo economico per chi partecipa a una durata di 12 mesi, in totale 1145 ore per 5 giorni a settimana. Possono presentare istanze giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Viene richiesta la flessibilità oraria ma anche la disponibilità a spostamenti sul territorio o a trasferimenti temporanei o ancora svolgimento di attività presso sedi temporanee per non più di 30 giorni ed eventuale disponibilità anche nei giorni festivi in occasione di particolari eventi. Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato di partecipazione e un'attestazione delle competenze. Le domande potranno essere presentate sino al 10 febbraio 2023 entro le ore 14 tramite apposita piattaforma scegliendo il progetto al quale si desidera partecipare. Sinergie per l'inclusione e l'autonomia coinvolge due cooperative a Caltanissetta e una a Palermo. Il progetto si precisa nella scheda di sintesi quale frutto della collaborazione e coprogettazione tra diversi soggetti che con i loro servizi operano su territori diversi Palermo e Caltanissetta mira a promuovere il rafforzamento della coesione sociale, la riduzione delle diseguaglianze sociale, territoriale, di genere eccetera.